Dekigeemu, presenta Era quella con le news dal Giappone Infatti qui c'erano sempre Un sacco di giochi bizzarri E misteriosi Cose che anche i redattori non sapevano bene Cosa fossero A parte quello che si vedeva in un paio di screenshot Ad esempio ricordo le immagini Di Battles Equ Team Innocent Oppure Astronoka E poi nella maggior parte dei casi di questi giochi Non se ne parlava più E naturalmente senza internet era impossibile Andare a trovare altro Però devo dire che la mancanza di informazioni Aumentava la mia curiosità Poi alla fine degli anni 90 Con l'arrivo di internet Le cose sono un po' migliorate Grazie alle board e ai fansite Si trovavano tanti altri appassionati Con lo stesso fetish Per questi giochi un po' diversi dal solito Ad esempio mi ricordo i siti amatoriali Su Gambare Gammon Oppure i forum dedicati ai giochi Per PC Engine Grazie a internet potevo finalmente approfondire queste cose Senza essere limitato da quel poco Che i redattori pubblicavano sui giornali Naturalmente il piacere della scoperta Molte volte è accompagnato anche Dal piacere della condivisione Che fosse nel mio sito su Geocities Oppure su qualche forum Mi è sempre piaciuto parlare con altri appassionati Di giochi come LSD Dream Emulator Oppure Umiyara Kawase O magari team come Quintet E Human Entertainment E tutto questo è continuato negli anni Tra blog e forum internazionali Fino ad arrivare al progetto Geekigemu su YouTube Insomma a questo punto Quello che mi piacerebbe fare È condividere anche i metodi che uso Per fare questi approfondimenti Naturalmente se sei un vecchio appassionato di videogiochi Saprai già molte delle cose Di cui parlo in questo video Però fai conto che potrebbero essere utili Ad altre persone Per organizzare meglio il discorso Ho diviso il video in diversi capitoli Inizio raccontando perché Credo che sia importante Fare queste ricerche Ne sottofondi videoludici Poi passo ai consigli Su come scoprire i nuovi giochi Poco conosciuti Poi come riscoprire Dei giochi dimenticati Usciti in passato E alla fine Come approfondire Autori e sviluppatori Di cui non parla Quasi nessuno Se hai curiosità Voglia E tempo libero Allora puoi approfondire da solo I videogiochi Per piacere personale Però è ancora meglio Se poi fai Degli articoli Delle liste Dei podcast O dei video Per raccontare ad altre persone Quello che hai scoperto Infatti purtroppo Non tutti i giocatori Riescono a fare da soli Queste ricerche E quindi serve il lavoro Di altri appassionati Per diffonderli E farli scoprire Naturalmente è importante Trovare anche La forma E il mezzo migliore Per salvare E condividere Le informazioni In modo da raggiungere Altri giocatori E ricordare queste cose Tutti insieme Poi ci sono talmente Tanti giochi Poco conosciuti Che servono per forza Tante persone diverse Per scoprirli Ad esempio Tu magari sei un appassionato Di visual novel Oppure di strategici A turni E ne conosci alcuni Che ti sono piaciuti Un sacco Però non ne parla nessuno A quel punto Potresti consigliarli A qualche amico Oppure fare una raccolta Di link Su qualche forum O magari creare Un video Per youtube Oltre ad aiutare Altri appassionati A trovare questi nuovi giochi Aiuti anche Chi ha creato Quei giochi A vendere qualche copia In più Infatti A parte I giochi gratuiti Di solito Gli sviluppatori Devono vendere Abbastanza copie Per continuare A lavorare Su altre cose Che ti interessano Poi in generale Se si diffonde L'apprezzamento Per un certo tipo Di giochi Allora potrebbero Uscirne altri Di simili Anche se creati Da autori diversi Insomma È sempre utile Quando c'è qualcuno Che si impegna Per trovare Condividere Dei videogiochi Interessanti E meno conosciuti Soprattutto se è qualcuno Con un grande pubblico Che ha dei gusti simili Ad esempio io al momento Non ho tempo Per approfondire Anche tutti i giochi Che escono Tra i circoli Dojin In Giappone E quindi sarei contento Se qualche grande sito O influencer Si mettesse a ricercare E condividere Quelli più originali E divertenti Comunque Se ti interessa Tutto questo procedimento Di ricerca E condivisione Credo che ci siano Tre skill Essenziali Che vale la pena Ripetere E tenere a mente Per tutto il resto Del video La prima è sicuramente Il piacere Della scoperta Ed è quella soddisfazione Che provi Nel passare decine O centinaia di ore A spulciare Ne sottofondi Dimenticati Di siti Forum O negozi online Solamente Per trovare Un gioco affascinante Di cui non sta parlando Nessuno O magari la mail Per scrivere A qualche autore Dimenticato La seconda È la costanza Nella ricerca Infatti per approfondire cose Di cui si parla poco Possono servire Settimane Mesi O anche anni Anche solo Lavorandoci Per qualche ora O qualche minuto Ogni giorno Se dopo un po' Ti fermi Perché non hai più voglia Oppure ti distrai Con altro Allora è difficile Raggiungere un risultato La terza invece È il piacere Della condivisione Serve molto altro tempo Per organizzare bene Le informazioni Che hai raccolto E poi raccontarle Nel modo migliore E quindi probabilmente Lo farai solo Se ti piace diffondere Queste scoperte Così anche altre persone Con interessi simili Possono conoscerle E tutti insieme Possiamo ricordarle Nel tempo Anche perché Se non ti piace Raccontare queste cose Con passione Allora è molto difficile Farsi ascoltare A questo punto Vediamo insieme Cosa si può fare Per scoprire I nuovi giochi Che pubblicano Ogni anno Su console E pc Oltre a quelli Di cui parlano già I siti I canali E gli influencer Molto famosi A un livello superficiale Puoi naturalmente Iniziare da siti Che parlano Di giochi Un po' diversi Dal solito Ad esempio Ci sono cose Come Dextruttoid Silico Nera Oppure Gematsu Che ogni giorno Ricevono informazioni Dai piccoli sviluppatori Poi a secondare Il genere Che vuoi approfondire Puoi cercare Se ci sono dei siti O dei forum Più specifici Ad esempio RPG Site Per gli appassionati Di giochi di ruolo Oppure Co-Optimus Per i giochi In cooperativa La maggior parte Dei giochi Di cui parlano In questi siti Sono già Molto famosi Però tra una news E l'altra Salta sempre fuori Qualche cosa interessante E meno conosciuta Per gestire Tutta questa Marea di informazioni Il sistema Che al momento Trovo più comodo È usare Twitter Attraverso TweetDeck Seguendo I profili Che mi interessano In pratica Invece di avere Una sola colonna Con tutti i messaggi Puoi organizzare Gli argomenti Su diverse colonne Volendo filtri Anche per parole chiave Ad esempio Puoi scegliere Di non vedere I messaggi Che parlano Di Dark Souls Oppure di Zelda Se questi Non ti interessano In questo modo Riesco a seguire Le notizie In maniera più semplice E ordinata Per poi approfondire Quelle che mi interessano Dei vari link Oppure cercando Direttamente io Su Google La cosa bella Di Twitter È che ci sono Anche migliaia Di altri appassionati Che parlano Di giochi Che non trovi Facilmente Da altre parti Ad esempio Oltre all'account Twitter Di Gekigemu Puoi seguire Quelli di Obscure Game Esthetic Oppure Weird Fucking Games Che linkano Ogni settimana Qualche gioco Diverso dal solito Naturalmente su Twitter Ci sono anche Gli autori Che promuovono I loro progetti Quindi potresti Seguire quelli Che hanno creato Dei giochi Che ti sono piaciuti Così sai Quando lavorano A qualcosa di nuovo Io ad esempio Sego gli account Di Yoshiro Kimura Oppure Landon Quello di Duck Game Ed è anche bellissimo Poterli rispondere E parlare direttamente Perché come ho fatto Twitter Una volta che Hai scoperto Qualche decina Di account Che parlano Di giochi Che ti interessano Poi è facile Che loro condividano I messaggi Di altri account Simili Quindi in poco tempo Diventa una fonte Inesauribile Di nuove informazioni Per me la cosa importante È filtrare O evitare proprio Quegli account Che postano meme Foto di vita privata O polemiche gratuite Così rimani concentrato Sui contenuti Che vuoi approfondire Se vuoi una lista Di account Twitter A tema videogiochi Da cui partire Per fare poi Le tue liste Nella descrizione Del video Ti linko Quella che ho fatto io Se tra qualche anno Twitter Non esisterà più Magari salterà fuori Qualche altro sistema Che torna utile Per organizzare Le notizie Dei vari siti E soprattutto Dagli altri utenti Con gusti simili Alla fine Già adesso Ci sono molte fonti Che non passano Da Twitter Ad esempio I forum Dove si trovano Gli sviluppatori indie Per chiedere consigli E annunciare I loro giochi Poi ci sono I gruppi Di Steam Curator Che consigliano Le nuove uscite Per varie nicchie Come quelli Che ho creato Per i weird games Oppure sul multiplayer Locale In più di 4 giocatori Puoi cercare Tra gli Steam Curator Se ce n'è già qualcuno Che si occupa Del tuo genere preferito Oppure se non c'è Puoi crearlo Direttamente tu Anche le game jam Sono piene Di piccoli sviluppatori Con molto talento Che puoi conoscere E puoi seguire Sui loro social Per scoprire Se poi fanno uscire Qualche altro gioco Visto che siamo su Youtube Naturalmente Anche qui ci sono Un sacco di canali Che parlano Di giochi Poco conosciuti A parte Geki Game Puoi seguire cose Come Alpha Beta Gamer Oppure Walsom Games Naturalmente Anche di questi Ti metto i link Nella descrizione Del video Io a un certo punto Mi sono accorto Che anche seguendo Tutte queste cose Rimanevano comunque fuori Troppi altri giochi Affascinanti Di cui non parlava Nessuno Quindi a un certo punto Ho iniziato a guardare Tutti i giorni Quali giochi escono Direttamente Nei negozi digitali A me in questo periodo Interessano in particolare Quelli su Steam E Switch Ma naturalmente Puoi farlo anche Switch O Microsoft Store O PlayStation Store O comunque Qualsiasi altro Piccolo E grande sito Dove gli sviluppatori Pubblicano i loro giochi Basta che vai sul negozio digitale E nella sezione Delle novità Guardi uno per uno Tutti i giochi usciti oggi Controllando i trailer Le foto E la descrizione Alla fine Se giochi da molti anni Ci metti Davvero pochi secondi Per intuire Se qualcosa Può interessarti O meno Poi domani Torni ancora sul sito E ti guardi Tutti quelli Che escono domani E quindi così via Per ogni giorno Dell'anno Se hai il fetish Per i giochi fisici Puoi anche fare La stessa cosa Su Amazon O altri negozi online In questo caso L'importante È cominciare Inizio anno E farlo tutti i giorni Perché se inizi a farlo A dicembre E vuoi sapere Cos'è uscito In 12 mesi Ad esempio su Steam Ti servirebbero Un centinaio di ore Davvero molto faticose Invece se lo fai Da gennaio Per qualche minuto Ogni giorno Allora arrivi a fine anno Che hai visto Tutti i giochi Che sono usciti E non te ne sei neanche accorto In questo modo Sei quasi sicuro Di non perderti Qualcosa di interessante E non devi neanche aspettare Che qualcun altro Lo trovi per te Anzi a quel punto Sei tu Che dopo averlo scoperto Puoi consigliarlo Ad altre persone Oltre ai giochi Appena usciti Potrebbero interessarti Anche quelli pubblicati Diversi anni fa Per vecchie console O pc In questo caso La missione diventa Più facile O più difficile A seconda Della piattaforma Ad esempio Su Nintendo 64 In tutto il mondo Sono usciti Meno di 500 giochi E naturalmente Ormai non escono più Almeno ufficialmente Quindi se vuoi trovarne Qualcuno di cui si parla poco Non ci metti tanto A controllare Tutta la lista completa E guardare le foto O i video Dei titoli che non conosci Per capire cosa sono Io infatti avevo fatto così Quando avevo lavorato Sul video Dei giochi alternativi Per Nintendo 64 Per altre console Invece la cosa diventa Più lunga da fare Ad esempio Sulla prima playstation Sono usciti Migliaia di giochi In tutto il mondo E non è neanche facile Trovare una lista Davvero completa Comunque con un po' di pazienza È una cosa Che potenzialmente Puoi fare Visto che Il numero dei giochi Ha una fine Prima o poi E quindi riesci a vederli tutti O almeno tutti quelli Di cui hai trovato il nome Il discorso è diverso Se pensiamo ai giochi Per computer Non ho idea Di quanti giochi Siano usciti Su diversi tipi di pc In tutte le nazioni Del mondo Però credo proprio Che non esista una lista Che li comprende tutti E questo senza neanche Tenere conto Di tutti i mod Di tutti i giochi amatoriali E del fatto che Magari anche Se scopri il nome Di un vecchio gioco Poi non trovi Nessuna foto Nessun video E neanche il gioco stesso Da scaricare Per esempio Pensa a quanti giochi indie Venivano pubblicati Sui siti personali Degli sviluppatori Nei primi anni 2000 Magari sono stati Scaricati da una decina Di persone Poi il sito ha chiuso E non sappiamo Chi può averne ancora Una copia O se ne esistono Proprio altre Per questo Credo che sia impossibile Conoscere tutti i giochi PC Usciti anche solo dagli anni 80 E naturalmente più passa il tempo E più giochi saranno dimenticati E perduti per sempre Per non impazzire L'unica soluzione È metterti l'anima in pace E accontentarti di spulciare Tra le liste incomplete Fatte da altri appassionati Sono quindi utili dei siti come Hardcore Gaming 101 Oppure Moby Games Dove trovi degli archivi pieni di titoli Per computer Che puoi anche filtrare Per genere Per anno Oppure per il nome di qualche sviluppatore Naturalmente trovi liste di giochi Per computer Anche in migliaia di altri forum In varie lingue Oppure blog E vecchi siti dimenticati Che magari saltano fuori solamente Nell'ultima pagina Dei risultati di Google Anche gli appassionati di retro game Su Twitter Sono una fonte essenziale Per scoprire dei vecchi giochi Di cui si parla poco D'altre parti Ad esempio ci sono Game vacanti PC98 Bot Oppure GDRI Trovo anche molto utile Il profilo di Roma Hacking Con le news Per quando pubblicano Delle nuove traduzioni amatoriali Per dei vecchi giochi Che erano usciti solo in Giappone Comunque anche di questi Ti metto i link Nella descrizione del video Naturalmente Anche YouTube È pieno di canali Che parlano Di vecchi giochi Meno conosciuti Ad esempio Trovi Saint Jeremy Parish Oppure Import Gaming For The Win Le serie di video Che faccio Sui giochi alternativi Per le vecchie console È proprio un modo Per condividere Alcune di queste cose Interessanti E dimenticatele Dal grande pubblico Quando ho fatto ricerche Sui vecchi giochi Che rimasti solo in Giappone In alcuni casi Mi è stato anche utile Amazon Giappone Infatti hanno ancora Delle sezioni Dove vendono i giochi Per console Di due o tre generazioni fa E puoi vedere velocemente Se c'è qualche copertina Di cose che non conosci Per poi cercare foto E video Per capire cosa sono Un'altra risorsa Un'altra risorsa Meno legale Però molto utile Sono gli archivi Di rom Per le vecchie console Dove potrebbero esserci Dei giochi Che non erano elencati Su altri siti Ad esempio Mi è capitato Di trovarne qualcuno In questo modo Quando avevo fatto Le ricerche Per i giochi Giapponesi Su playstation Una fonte importante Di ricerca storica Che a volte viene dimenticata Sono anche Le vecchie riviste Di videogiochi Magari Le comprovi tu Da piccolo Oppure qualche amico Che ne ha ancora E te le può prestare Ma in alternativa Ne trovi anche un po' In scan Su siti Comarchive Sia italiane Che straniere Sfogliando le pagine Infatti saltano fuori Molti giochi Che oggi Non ricorda più nessuno Online E se non sono stati Cancellati Magari con un po' Di fortuna Puoi anche trovarli Da scaricare Un'altra risorsa Che puoi usare Sono le chat Con gli appassionati Di giochi alternativi Dove si parla di cose Che magari Non sono indicizzate Su google Una volta c'erano I canali di IRC Oggi ci sono I canali discord Come quello di Gekigemu E domani magari Ci sarà qualche altro sistema In ogni caso Immagino che online Troverai sempre Un modo Per scrivere E parlare Con altri giocatori Sparsi per il mondo Se vuoi approfondire Anche gli autori E gli sviluppatori Poco conosciuti Allora ci sono Altre strategie Che puoi seguire In pratica Sono le stesse cose Che faccio io Quando lavoro Sui documentari Di fuori orario Videoludico Visto che si parla Di autori di nicchia Purtroppo nella maggior parte Dei casi Non trovi dei libri Degli articoli O dei documentari Già fatti Che ti dicono Tutto quello Che vorresti sapere Ad esempio Io ho sempre sentito Nominare Dei personaggi Come Shoji Masuda Oppure Kiyoshi Sakai Però non ero mai riuscito A trovare Degli approfondimenti Completi Per capire meglio Chi sono E su cosa hanno lavorato Quindi poi alla fine Li ho fatti io E poi li ho condivisi Su Geeky Game Per iniziare la tua ricerca Deve affidarti a Google E leggere con calma Tutto quello che esce In risultati Confrontando tra di loro Le diverse pagine Per capire Se qualcosa non torna Infatti Mi è capitato spesso Di trovare anche Su siti abbastanza famosi Dei grandi errori Consiglio di prendere appunti Su un file Di Google Docs Così hai un backup automatico E non rischi Di perdere tutto Io di solito Comincio facendo Copia e colla Di tutte le informazioni Più interessanti Oppure quelle che vorrei Approfondire meglio Ad esempio Metti insieme Una lista Dei giochi Su cui ha lavorato qualcuno Controllando su diverse fonti Per capire Se è completa Oppure se manca qualcosa Poi naturalmente Se userai questi appunti Per creare un tuo articolo O un documentario Li riscrivi meglio E li ampli Con il tuo stile E il linguaggio più adatto Per comunicarli Ad altre persone Io di solito Trovo utile Mettere di fianco Al nome di ogni gioco Anche l'anno In cui è uscito E se si trovano Anche i nomi Degli autori principali Così capisco meglio Chi ha fatto Che cosa Nel progetto Poi giocando Leggendo O guardando video Su ogni singolo gioco Puoi anche Prendere nota Di eventuali tematiche Di personaggi O stili Ricorrenti In questo modo Crei dei collegamenti Tra i diversi giochi E tracci L'evoluzione Di chi li ha creati Prendi ad esempio FK Nei giochi di Zwery Oppure la mitologia Della luna In quelli di Goichi Suda Nel file dove Prendi appunti Salva anche tutti i link Da cui recuperi Le informazioni Così puoi indicare Le fonti Nel tuo articolo Oppure Rileggerli Più avanti Se non sei sicuro Di qualcosa Per me È anche comodo Segnare i siti Che ho trovato Ma che Non ho ancora Avuto tempo Di leggere Perché altrimenti So già che Mi dimenticherei Nei giorni dopo Mentre metti insieme Le prime notizie Sulla storia Di un team E sui loro giochi Prova a pensare Cosa vorresti sapere Su di loro Quali Retroscena O dettagli Ti piacerebbe scoprire Per avere una visione Più completa Della loro opera Ad esempio Può essere interessante Sapere Come erano Le condizioni Di lavoro Nello studio Che film Hanno visto Durante lo sviluppo Oppure I loro giochi Preferiti Di quando erano piccoli Queste informazioni Tornano sempre utili Per intuire Come e perché Hanno creato Un certo tipo Di giochi Ma in generale Credo che siano Così interessanti Perché alimentano Il fascino Misterioso Che hanno le vite Degli altri esseri umani Soprattutto a confronto Con la nostra E soprattutto Quando sono altri Appassionati Oppure creatori Di videogiochi In alcuni casi Potresti essere Fortunato E trovare Il blog Di un autore Oppure delle interviste Dove parla Dei suoi ricordi Di gioventù E delle sue Influenze artistiche Qualche volta Ti tocca arrivare Fino all'ultima pagina Dei risultati Di google Per recuperare Informazioni Di questo tipo Se non trovi Interviste O blog Forse ci sono Degli account Social Di questi autori Dove hanno pubblicato Molti dettagli Sulla loro vita E le loro passioni Ad esempio A me è capitato Spesso Di trovare Informazioni preziose Su qualche sviluppatore Spulciando Centinaia e centinaia Di messaggi Del suo profilo twitter Un po' come se fossi Uno stalker Di ricerca storica In altri casi Trovi invece Dei video Dove Parlano per ore Di cose inutili Però poi alla fine C'è magari un minuto Dopo la quarta O la quinta ora Dove dicono qualcosa Di super interessante Che non avevano mai scritto Da nessun'altra parte Quindi insomma Ti tocca Vederli tutti Dall'inizio alla fine Anche le vecchie riviste Di videogiochi Tornano utili Soprattutto quelle Indicizzate su archive.org Così puoi cercare Delle parole Dentro la versione testuale Poi quando pensi Di aver già trovato Tutte le informazioni Che esistono online Allora ricomincia Da capo Cercando diverse Combinazioni Di parole Finché Non ne osaurisci Ogni possibile Risultato Su quell'argomento E quando è consumato Anche tutte queste tracce Arriva il momento Di contattare Direttamente Gli sviluppatori Mandandogli un'email Oppure un messaggio Su qualche social Visto che parliamo Di autori poco conosciuti Di solito Non ricevono Molti messaggi Dai fan Quindi c'è qualche chance In più Che ti rispondano A quel punto Se hai fortuna Puoi chiedergli Tutti i dettagli Più nascosti Della loro carriera Però senza esagerare Se invece Non ti rispondono Oppure Se non trovi modo Di contattarli Allora pazienza Però vale comunque La pena di provare Alla fine Non c'è fonte migliore Degli stessi sviluppatori Che stai approfondendo Ma naturalmente Non sono sempre disponibili Nel caso di autori Giapponesi Oppure Russi O cinesi Ti conviene fare Delle ricerche Anche in queste lingue La cosa più semplice È usare Google Translate Anche se per ora Non è molto affidabile Ad esempio Puoi prendere Il nome in giapponese Di un autore E cercarlo insieme Alla parola Intervista Sempre tradotta In giapponese E quindi vedere Se esce qualche Altra pagina Da tradurre Anche se in alcune parti Le traduzioni Con Google Translate Sono decisamente Surreali Potresti comunque Intuire Qualche dettaglio utile Che poi cerchi Di confermare In altri modi Ad esempio L'autore potrebbe Rispondere a una domanda Dove ti fa l'elenco Dei suoi giochi preferiti Oppure Racconta Che scuola ha fatto In futuro Google Translate Potrebbe essere Più preciso Però se hai la possibilità Vale la pena Di trovare qualcuno Che conosce Direttamente la lingua Così puoi farti fare Una traduzione Manuale Più o meno Questi dovrebbero essere Tutti gli spunti Che puoi usare Per la tua Personale ricerca Nei sotterranei Videoludici Poi fammi sapere Nei commenti Quale argomento Hai approfondito Quanto sei andato a fondo E come lo hai condiviso Con gli altri appassionati Sicuramente Mi sono dimenticato Qualcosa E comunque Tra qualche mese O tra qualche anno Salteranno fuori Delle nuove strategie E nuove fonti Che potrei usare Per conoscere Videogiochi di nicchia E autori Dimenticati Comunque la cosa migliore Rimarrà sempre Quella di entrare In contatto Con chi crea Questi giochi Che sia per sapere Quando esce Un nuovo progetto Oppure per fargli Qualche domanda Su come lo ha Creato Insomma alla fine La ricerca Videoludica È una ricerca Sociale Si potrebbe dire Che approfondire Videogiochi In autonomia Porti a una tendenza Nel fare le cose Da soli Ma in realtà Non è possibile Visto che Saranno sempre cose Create da altre persone Quindi alla fine La cosa più importante È quella di Imparare a comunicare Meglio Con gli altri Esseri umani Per da mattina Per da mattina Grazie a tutti.